L'Avvocato Croce e il Delfino Curi Pescara apre le porte della propria scuola calcio ai bambini in arrivo nella città di Pescara in fuga dall'Ucraina in guerra. Abbiamo pensato di mettere a disposizione la nostra società con tutti i nostri istruttori e allenatori, i nostri impianti sportivi, per permettere a tutti i bambini di cercare di tornare a avere una vita la più normale possibile. E quindi lo sport, il gioco e lo stare insieme ad altri bambini alla loro età sicuramente può aiutarli. Sappiamo che è semplicemente un piccolo gesto ma pensiamo che possa essere utile per questi ragazzi. Abbiamo sentito oggi che stanno arrivando ancora tante famiglie, come Comune di Pescara stiamo gestendo abbastanza bene l'arrivo di tutte queste famiglie, ospitandoli negli alberghi, poi molti vanno anche in famiglie di amici o parenti e però proprio perché inizieranno un loro percorso di vita qui noi abbiamo pensato che potesse essere utile per loro farli venire a giocare con noi e farli integrare con gli altri ragazzi. Quindi il primo scopo è il gioco, il socializzare con gli altri bambini. Antonio Martorella, socio del Delfino Curi Pescara, il calcio è un veicolo straordinario per l'integrazione, per la socializzazione, quindi una bellissima iniziativa questa, portare bambini che scappano da una tragedia. Sì, in questo caso oltre che aggregazione e socializzazione, lo sport e la fattispecie il calcio assume un valore assoluto, assume un valore di vita per questi bimbi che scappano dalla guerra, quindi abbiamo riassunto la nostra iniziativa come lo sport è vita, la guerra è morte e il cartellino rosso alla guerra. Questo sperando di dare una chance di recuperare la gioia di vivere a questi bambini. Grazie.